Un altro consiglio è quello di imparare a negoziare. Ci sono alcune cose nel lavoro che sono un diritto, altre invece vanno acquisite in una relazione con il vostro capo. Io penso che le madri abbiano acquisito, proprio per il fatto di aver avuto dei figli, delle capacità negoziali pazzesche. Il consiglio è quello di metterle in gioco anche nel mondo del lavoro. Non chiudetevi pensando appunto che tutto sia chiaro. Spiegate ai vostri colleghi e al vostro capo come stanno le cose e come potrebbero essere organizzate anche diversamente.